Adesso iniziamo quindi a trattare i vari argomenti. I vari argomenti sono tenuti assieme da un filo logico che sono delle citazioni di testi antichi, quasi al fine di dimostrare che c'è una continuità temporale tra i tempi antichi e i tempi moderni, non c'è una dieresi in segmenti, ma vediamo soprattutto con Ippocrate nascere la medicina moderna, la medicina moderna che nasce praticamente con Ippocrate nel V secolo a.C. nell'isola di Kos. Si vengono a creare delle condizioni assolutamente particolari. Nell'isola di Kos era presente un tempio dedicato al dio Asclepio, cioè al dio della medicina, in cui confluivano da tutte le parti della Grecia di allora i malati per chiedere la guarigione al dio. In questa situazione veniva a crearsi al di sotto del colonnato del tempio un assemblamento, una folla di pazienti e quindi c'era un gran numero di persone malate e questo più facilmente ha permesso a Ippocrate di vedere appunto un gran numero di medici e riuscire a capire, a fare praticamente un'esperienza unica che non si sarebbe potuta verificare in altre parti della Grecia. Tenete presente che l'isola di Kos poi è praticamente a pochissima distanza dalle coste dell'Asia minore e vi confluivano tantissime persone dalla Grecia e dai paesi di Mitrufi. Il primo argomento che dobbiamo affrontare è l'argomento delle fratture. E infatti all'epoca i traumi erano frequenti, frequentissimi come al giorno d'oggi. Al giorno d'oggi sono prevalentemente traumi stradali, all'epoca probabilmente erano le guerre continue e quindi ferite d'arma da taglio e da punta. Allora, lasciando adesso un attimo la biografia di Ippocrate, chiamiamo la studentessa Elena a leggerci il primo aforisma del primo libro di aforismi di Ippocrate. Ippocrate ha scritto due libri di aforismi. Cosa erano gli aforismi? Erano praticamente quasi dei proverbi più facili da mandare a memoria, erano i principi distillati dall'esperienza di Ippocrate e dei suoi allievi. Questi aforismi quindi erano più facili da mandare a memoria e è nato questo convegno quasi per avvicinarli alle nostre cosiddette linee guida o protocolli più moderni. Cioè abbiamo una traccia da seguire. Bene, la traccia 2.500 anni fa consisteva nel mandare a memoria questi aforismi. Quindi leggiamo solo il primo aforisma. Perché? Perché i colleghi che hanno la mia età si renderanno conto che il primo aforisma campeggiava alla metà della scalinata in marmo della clinica medica e in lettere di bronzo sulla parete di fronte alla scalinata che noi salivamo per andare a lezione c'era questo aforisma che ora Elena Villegge. La vita è breve, l'arte è lunga, l'occasione è fugace, l'esperienza è fallace, il giudizio è difficile. Bisogna che non solo il medico sia pronto a far da sé le cose che debbono essere fatte, ma anche il malato, gli assanti, le cose esterne. Nell'antichità erano sicuramente molto frequenti e a brevissima dimostrazione di questo vi ricordo il mito di Prometeo. Prometeo, per aver donato il fuoco agli uomini, era stato punito dagli dei con l'incatenamento ad una roccia e ogni mattina arrivava l'aquila che gli portava via il fegato che era ricresciuto durante la notte. Gli antichi spesso ricordavano appunto agli aforismi, ai miti per fotografare una realtà che avevano osservato. Da tutti gli esaminatori di questo mito, questa realtà era verosimilmente una ampia ferita dell'addome che esponeva il fegato, anch'esso ferito, che ricresceva al di fuori della Grisoniana e quindi gli antichi avevano avuto esperienza sicuramente in molteplici casi di ampie ferite dell'addome, verosimilmente appunto da grosse arme da taglio che permettevano che il soggetto continuasse a vivere e potevano osservare direttamente, per l'organo ormai esposto, questa ricrescita. Adesso, dopo aver sottolineato l'importanza dei traumi anche nell'antichità, diamo la parola alla dottoressa Angela Loi, che non vedo più, scusami ma c'ho la luce, va bene, che ci parlerà della prima assistenza dopo un politrauma, dopo un grave trauma. Grazie. Ringrazio gli organizzatori, in particolar modo il dottor Garau per il gentile invito. Io vi parlerò dell'assistenza ad emergenza al paziente traumatizzato ed in particolare vi dirò cosa facciamo noi rianimatori quando in pronto soccorso arriva un grave politrauma in codice rosso. È molto importante, anche se apparentemente può sembrare scontato, che ci sia un corretto passaggio di notizie tra l'equip che lavora nel territorio, da noi il 118, e l'equipe introspedaliera. Noi dobbiamo essere in grado di raccogliere in un brevissimo lasso di tempo la maggior parte delle notizie riguardo soprattutto al paziente e anche alla dinamica del trauma. Il politraumatizzato è un paziente particolare, proprio perché presenta una molteplicità e anche una contemporaneità delle lesioni. Questo fa sì che chi si occupa di lui non sia un singolo operatore sanitario, ma bensì un gruppo, una squadra di medici e infermieri, specialisti in vari settori, però tutti esperti nel trattamento del trauma. Un lavoro di squadra con operatori che siano in grado di lavorare in maniera coordinata, trasversale, ma soprattutto praticamente utilizzando un linguaggio comune e utilizzando dei protocolli comuni. Infatti solo un buon lavoro di squadra garantisce proprio l'approccio multidisciplinare che è necessario al trattamento di questi pazienti. Cosa facciamo davanti a un trauma? La prima cosa a un paziente traumatizzato, la prima cosa è stabilizzare il paziente. Noi ci basiamo sulle linee guida della TLS, secondo cui vanno trattate prima le lesioni che mettono potenzialmente letali per il paziente. Le altre lesioni possono essere trattate in un secondo momento e dobbiamo tener conto del fattore tempo, della cosiddetta golden hour. In genere nel trattare il traumatizzato ci sono vari step. Abbiamo una valutazione primaria, una rianimazione iniziale, che vengono fatte in contemporanea, ed è quella su cui mi soffermerò in questa relazione. Poi una valutazione secondaria e per ultimo il trattamento definitivo delle lesioni. La valutazione primaria, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo valutare abbastanza rapidamente il paziente e ricercare, trattare le lesioni potenzialmente letali. Si compone di cinque step, come potete vedere, ognuno contraddistinto da una lettera dell'alfabeto. Le prime due hanno la priorità assoluta, cioè la gestione delle vie aeree e la respirazione, proprio perché se non trattate immediatamente portano a morte il paziente per arresto cardiaco. Al punto C abbiamo il circolo, quindi il controllo delle emorragie, al punto D lo stato neurologico e al punto E il controllo ambientale. Io ve le ho elencate in maniera verticale, però dovete considerare che quando in pronto soccorso questi vari step vengono affrontati, proprio riallacciandoci al discorso del trauma team, con più operatori, in maniera contemporanea. Iniziamo dal punto A, le vie aeree. Che cosa dobbiamo fare? Per primo garantire la stabilità del racchide cervicale. Tutti i traumatizzati devono apportare un collare cervicale, fino a quando non siano escluse successivamente delle lesioni del racchide, e poi garantire la privietà delle vie aeree. Le vie aeree possono essere parzialmente ostruite, in tal caso bastano anche delle semplici manovre di rianimazione, come sublustrazione della mandibola, mettere una canula faringea e dare ossigeno, e soprattutto rimuovere eventuali corpi estranei. Però se la situazione non migliora, e soprattutto di fronte a un'ostruzione completa delle vie aeree, dobbiamo prepararci per una via aerea definitiva, che è rappresentata dell'intubazione orotracheale, che rappresenta il gold standard, proprio per quanto riguarda la privietà delle vie aeree. Quando intubare un paziente? In caso di ostruzione, l'abbiamo detto prima, in caso di arresto respiratorio, e in caso di coma o trauma cranico, con un GCS inferiore a 8, è obbligatoria. Ci sono altri casi, però, in cui è consigliata, come per esempio nei tromi al viso, proprio per preventiva, oppure anche nel paziente agitato, che magari deve fare un interdiagnosico-terapeutico lungo, e difficilmente sarebbe gestibile. E anche nel paziente in stato di shock, con grave instabilità emodinamica. Le ultime linee guida consigliano un'intubazione orotracheale, anche per GCS, inferiori ai 12. E' importante anche prevedere delle difficoltà, il paziente politraumatizzato può presentare difficoltà all'intubazione, perché? Uno, per la presenza del colare cervicale, che non ci aiuta nella manovra, e poi soprattutto nei tromi facciali, difficoltosa apertura della bocca. Per cui dobbiamo essere pronti anche ad avere a disposizione, a parte il tubo e laryngoscopio, anche dei metodi alternativi, rappresentati da mandrini introduttori, dal video laryngoscopio, sette di trachiostomia, insomma, chi più ne ha, più ne ammetta. La rianimazione va fatta rapidamente, utilizzando un sedativo, un bloccante neuromuscolare, ed è molto importante, è una scelta oculata dei farmaci, evitando quelli che deprimono in maniera eccessiva il sistema cardiovascolare, proprio perché bisogna evitare in ogni caso l'ipotensione. Il punto B è il breathing, il respiro. Quali sono i nostri obiettivi? Quello di garantire una ossigenazione, una ventilazione, verificare se ci sono segni di poesia, soprattutto identificare, e trattare eventuali, praticamente, cause di alterata ventilazione. Cosa facciamo? In emergenza, un esame obiettivo del torace, quindi osserviamo, vediamo se ci sono asimetrie, toraci che alla palpazione, se ci sono scrosci, che possono essere anche patogni omonici di un volè, verifichiamo la frequenza respiratoria, e mettiamo un saturimetro. Ci sono delle lesioni che vanno trattate immediatamente, perché sono pericolose per la vita, e sono rappresentate appunto da queste quattro, dal pneumotorace per teso, dal pneumotorace aperto, dal volet costale, e dalle motoracce massive. Queste lesioni vanno identificate, e trattate immediatamente. Cos'altro facciamo per garantire un'ossigenazione efficace? Lo monitorizziamo, l'abbiamo detto prima, abbiamo un saturimetro, monitorizziamo anche l'ETCO2, facciamo degli EGA seriati e ripetuti, poi se è un respiro spontaneo, possiamo anche mettergli una mascherina con un reservoir, possibilmente con una valvola non rebriefing, con ossigeno ad alti flussi, se intubato, preferiamo collegarlo a un ventilatore da trasporto, proprio perché la ventilazione manuale, tramite il classico vai e vieni, comporta dei, non dà delle garanzie riguardo alla stabilità dell'ETCO2, in questi pazienti bisogna proprio assolutamente evitare l'iperventilazione e l'ipocapnia, perché se è vero che riducono praticamente la pressione intracranica, è anche vero che riducono anche il flusso ematico cerebrale, quindi predispongono anche nel trauma cranico anche a lesioni ischemiche, il controllo del dolore e la toilette bronchiale chiaramente sono importantissimi. Il punto C è il circolo. I nostri obiettivi sono quelli di controllare i foci emorragici comprimibili e poi verificare segni e sintomi di ipoperfusione come con la pressione arteriosa, con il tempo di riempimento capillare, l'aspetto della cute e la frequenza cardiaca. In questo punto dobbiamo considerare anche il riempimento volemico e poi considerare il ricorso precoce a sangue ed emoderivati. Dobbiamo accertarci che il paziente abbia degli accessi vascolari validi, in genere si mettono due accessi venosi periferici di 14-16 GOG, in urgenza il CVC non è indicato, non lo mettiamo quasi mai a meno che non riusciamo a prendere un vaso periferico. In questa fase vanno fatti i prelievi ematici per l'assetto ematochimico richiesta a sangue e soprattutto per l'emogas. Come riconosciamo uno stato di sciocco in un politrauma? Ci sono dei parametri che vedete elencati come la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e la diuresi che chiaramente sono i parametri classici però sono molto grossolani e si verificano la loro alterazione cioè il paziente è tachicardico ipotesio che urina poco prevede anche uno sciocco che è dati da un po' di tempo. Mentre invece ci sono dei parametri più fini che possono essere ricavati da un semplice emogas arterioso che sono il deficit di base il BD e i latati che sono degli indici che si è alterati sono un indice di una ipoperfusione periferica essendo dei marcatori sierici proprio del deficit di ossigeno. Quando dobbiamo spaventarci? Quando vediamo un deficit di base superiore ai 6 e i latati che aumentano superiore ai 4. Shock nel trauma emorragico ma non solo infatti uno stato di shock potremmo trovarlo anche per altre cause tipo uno shock costruttivo per esempio pneumotoraceo eperteso tamponamento cardiaco oppure nei traumi toracici possiamo avere un trauma cardiaco quindi uno shock cardiogeno nei traumi spinali è frequentissimo lo shock neurogeno e infine lo shock setico anche se si verifica un pochetto più tardivamente nei traumi addominali con scopio di anse lo shock emorragico comunque è lo shock che più frequentemente noi troviamo in un paziente traumatizzato ed è responsabile del 30-40% della mortalità da trauma per cui nel paziente traumatizzato in stato di shock lo consideriamo un shock emorragico fino a prova contraria shock emorragico quali sono i nostri obiettivi? chiaramente identificare e controllare la fonte del sanguinamento chiudere il rubinetto poi mantenere contemporaneamente mantenere una perfusione ossigenazione tessutale e chiaramente il controllo dell'emostasi identificare la fonte del sanguinamento in urgenza come? ci aiuta molto la dinamica del trauma perché è chiaro che se un paziente rimane incastrato sotto un trattore presumibilmente ha delle lesioni differenti da uno che magari è caduto dalla bicicletta ci aiuta la clinica e la diagnostica per immagini in emergenza soprattutto le FAST le FAST toraccia-dome che ha un po' rivoluzionato in questi ultimi 20 anni quello che è proprio l'iter diagnostico-terapeutico di questi pazienti mantenere mantenimento della perfusione ossigenazione tessutale come? dandogli liquidi ricorrendo a emazie concentrate in alcuni casi se non riusciamo a raggiungere i target pressori proposti anche dall'utilizzo di notropi e vasopressori dobbiamo bilanciare l'obiettivo di perfondere gli organi con i rischi di un risanguinamento per fare ciò cosa facciamo? accediamo anche una pressione arteriosa inferiore alla norma vedete elencati i target identificati che sono una pressione sistolica di 90 nel trauma chiuso nel trauma penetrante anche 70 però nel trauma cranico-espinale proprio per garantire una pressione di perfusione cerebrale idonea dobbiamo avere una pressione superiore a 110 120 si parla appunto di rianimazione ipotensiva e povolemica che è la filosofia del damage control resuscitation in cui vedete i propri caposaldi un'ipotensione permissiva una minimizzazione nella somministrazione dei fluidi infusi pur garantendo gli obiettivi pressori mentre invece un ricorso precoce a sangue e derivati ematici infatti dare tropi liquidi si è visto che non aiuta praticamente il paziente ma anzi lo predispone ad effetti collaterali come per esempio complicanze polmonari un RDS soprattutto a livello dell'addome possiamo avere un'ipertensione addominale sino a una vera e propria sindrome compartimentale infine chiaramente coagulopatia anche da diluzione dei fattori della coagulazione alcuni studi hanno proprio dimostrato che il paziente è sovrariempito che ha fatto tanti liquidi non solo diciamo non ha una non migliora per quanto riguarda la mortalità ma anzi si ricorre più precocemente alla dialisi e aumentano i giorni anche di ventilazione meccanica quali liquidi infondere è decisamente i cristalloidi e nel ringer latato il cristalloide di scelta lasciando la fisiologica nei traumi cranici perché la fisiologica ha più sodio non c'è nessuna evidenza che i colloidi siano migliori costano di più e tra l'altro interferiscono maggiormente proprio con la coagulazione per quanto riguarda i cristalloidi pertonici ossia la soluzione fisiologica al 7,2% non c'è nessuna evidenza e personalmente non ho nessuna esperienza perché nel nostro ospedale non l'abbiamo mentre invece è molto importante che i liquidi vengano riscaldati a 38 gradi quando trasfondiamo l'argomento non è perfettamente delineato è una questione non risolta tutte le linee guidi europee consigliano una soglia di 7,9 soglia che è valida anche nel trauma cranico anche se in effetti alcuni centri in traumi cranici importanti con aumento della PIC e anche con probabile schemia preferiscono alzare un pochino questa soglia paziente anziano paziente cardiopatico paziente con patologia respiratoria la soglia comunque deve essere in ogni caso superiore ai 10 controllo delle mostasi il trauma è sempre al trauma si associa sempre una coagulopatia che riconosce la cosiddetta TIC quindi coagulopatia trauma indotta che riconosce varie cause sia una coagulopatia che si inesca proprio dovuta al trauma al tipo danno dei tessuti e degli organi ma anche una coagulopatia da ipoperfusione quindi stato di sciocca anemia ipotermia e poi anche una coagulopatia che potremmo chiamare iatrogena proprio dai truppi liquidi dati che diluiscono i fattori della coagulazione soprattutto non stare molto attenti alla temperatura cutanea del paziente evitando l'ipotermia dobbiamo assolutamente evitare quella che nel politrauma viene chiamata la triade letale data appunto dall'acidosi dall'ipotermia e dalla coagulopatia vedete poi nella diapositiva anche le varie cause sono tre fattori che praticamente si autosostengono a vicenda in un circolo vizioso se noi non riusciamo a correggerli a spezzarlo poi si ha l'esaurimento delle riserve fisiologiche del paziente fino a morte per emorragia cosa dobbiamo fare quindi correggere l'acidosi evitare l'ipotermia dare calcio che comunque rientra nel meccanismo della coagulazione e poi plasma fresco congelato e piastrine quando e come darlo dipende dalle linee interne di ogni reparto è presumibile si dà il plasma in genere se un NR è maggiore di 1,5 le piastrine per garantire nel paziente sanguinante o con trauma cranico superiore almeno alle 75.000 100.000 piastrine è molto importante anche sostituire i fattori della coagulazione che sono andati persi quali il fibrinogeno ad esempio concentrati protrombinici possono essere dati nel paziente che fa uso di anticoagulanti orali proprio perché li antagonizza lasciamo l'ultimo il fattore settimo ricombinante costosissimo e comunque andrebbe fatto solo se le terapie standard sono inefficace mentre invece è molto importante dare degli antifibrinolitici l'acido tranexamico un grammo subito preferibilmente entro tre ore dal trauma e un altro grammo nelle successive otto ore infatti c'è uno studio il crash 2 del 2010 che ha visto proprio una riduzione della mortalità seguendo questo protocollo tutta la coagulazione può essere poi monitorizzata con un trombo elastomero ci permette appunto di studiare la coagulazione dalla fase intrinseca estrinseca il fibrinogeno e anche la fibrinolisi noi l'abbiamo acquisito relativamente da poco nel nostro reparto e comunque i risultati sono incoraggianti punto D è lo stato neurologico velocemente cosa dobbiamo fare un esame neurologico abbastanza sommario diamo un punteggio GCS valutiamo le pupille quindi se c'è anisocoria e in più se ci sono deficit ai quattro arti bisogna assolutamente evitare il danno cerebrale secondario evitando quindi l'iposia e l'ipotensione il controllo ambientale si fa il paziente si rimuovono gli abiti si fa il log rollo anche se questa manovra ha perso un po' l'importanza che aveva negli anni precedenti comunque in caso di dubbi su lesioni al dorso bisogna ricordarsi di farla chiaramente con più operatori tenendo tutto il racchide in asse il paziente durante queste procedure a parte il collare anche su una tavola spinale bisogna prevenire l'ipotermia quindi riscaldandolo e poi in questa fase si può mettere un catetere vescicale una sonda gastrica una volta che abbiamo fatto queste cose passiamo alla valutazione secondaria in cui c'è il tempo di approfondire l'anamnesi anche il meccanismo del trauma si fa un esame obiettivo abbastanza approfondito testa a piedi e poi si fa la diagnostica strumentale di primo livello che è rappresentata da un RX bacino da un RX torace e da un'ecografia quello che sarà il trattamento definitivo dipende molto dalle condizioni del paziente infatti se ci troviamo di fronte a un paziente stabile dal punto di vista emodinamico cosa vuol dire che per un'ora riesce a mantenere una pressione sistolica superiore a 90 senza appunto la necessità di infusioni trasfusioni ammine possiamo anche procedere agli esami di secondo livello che sono l'angiotici oppure eventualmente un'angiografia l'RX agli arti eventualmente anche una risonanza si è indicata però se il paziente è instabile è prioritario controllare appunto le stabilità emodinamiche ciò avviene quasi sempre in sala operatoria con la damage control surgery e gli interventi e gli accertamenti di secondo livello vengono fatti in un secondo momento dopo a paziente stabilizzato grazie